Sono stati rinviati a giudizio il docente Angelo Giuseppe Bastone, accusato dalla procura della Repubblica di Cosenza di aver molestato sessualmente alcune studentesse del liceo Valentini Maiorana di Castro Libero e l'ex dirigente scolastica Yolanda Maletta, alla quale è stato contestato il reato di omissioni dati d'ufficio. Lo ha deciso il gruppo di Cosenza Manuela Gallo. Il processo avrà inizio il prossimo 11 gennaio 2024. La vicenda risale al febbraio dello scorso anno, i fatti sarebbero accaduti in un periodo precedente ed è nata dalla denuncia di alcune studentesse che hanno riferito agli investigatori di aver subito molestie sessuali da parte del docente mentre erano a scuola. Dopo le denunce, la comunità studentesca si era mobilitata occupando la scuola per alcune settimane. Le ipotesi di reato a carico del docente sono violenza sessuale, tentata violenza sessuale, molestie sessuali e tentata estorsione. Nei confronti dell'ex dirigente scolastica, oggi in pensione, l'accusa è di omissione dati d'ufficio poiché, in qualità di pubblico ufficiale pur essendone a conoscenza, avrebbe omesso di denunciare i fatti. Le indagini erano state avviate dai carabinieri della compagna di Cosenza dopo le denunce presentate dalle studentesse che sarebbero state molestate dal professore. In particolare, le ragazze che avrebbero subito le moleste sono quattro, tutte minorenni all'epoca dei fatti.